C'è da fare complimenti ai ragazzi, c'è da fare complimenti al prof perché hanno sempre lavorato bene, hanno lavorato tanto e soprattutto non abbiamo avuto problematiche fisiche. Oggi mi sembra che si sia fatto il 48esimo allenamento, non aver avuto problemi con i carichi di lavoro che hanno sostenuto i ragazzi con grande partecipazione, con grande capacità di lavorare sulla fatica credo che sia un merito importante allo staff tecnico perché comunque i lavori glieli facciamo fare noi e soprattutto in questo periodo Alessandro Ducci, però anche ai ragazzi che sulla fatica non si sono mai risparmiati. Questa mattina è stato presentato De Feudis, l'ultimo acquisto di questa campagna di calcio mercato, come si può inserire nel 4-2-3-1 o ad esempio nel 4-4-2 che ha provato questa mattina? Si inserisce come uno dei due centrocampisti centrali, un pochettino quello che lui ha sempre fatto nella sua carriera quando ha trovato allenatori che utilizzavano il centrocampo a tre ha fatto sia il vertice basso che la mezzala. Quindi è un giocatore che ha esperienza, che ha doti morali non indifferenti, non è un caso se vi dico che dall'inizio della stagione ogni acquisto che abbiamo fatto d'accordo con il direttore è sempre stato mirato o diciamo così anche sezionato dal punto di vista morale, dal punto di vista della professionalità perché credo che siano dei valori che alla lunga diventano determinanti nell'economia della stagione e da questo punto di vista Giuseppe credo che sia di totale affidabilità.